Eccoci a questa ultima puntata di questa serie di salute 4.0, una puntata in cui dopo aver affrontato tanti argomenti nelle puntate precedenti ci occuperemo di futuro, di un futuro che in parte è già presente, parliamo appunto di quello che ci si attende in termini di opere e anche di interventi, di progetti, da quello che ormai è conosciuto come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, per parlarne con noi oltre ovviamente a Clelia Pettini che è qui in studio e che ha seguito tutta questa serie di trasmissioni, abbiamo il presidente del Coeso Società della Salute, Marcello Giuntini, che è anche sindaco di Massa Marittima, e abbiamo la direttrice del Coeso, Tania Barbi, che è anche direttrice del distretto sanitario. Dunque, intanto, Giuntini, proviamo a spiegare perché, perché quando si parla di PNRR si pensa sempre ai grandi progetti che riguardano le città, tutti i sindaci hanno presentato progetti, hanno avuto finanziamenti, invece quando si parla di sociale, come si coniuga il PNRR con il sociale? Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza tocca un po' tutti gli ambiti della vita delle comunità, di una nazione, quindi è normale che ci siano investimenti anche in sanità e anche nel sociale. È un piano di investimenti, quindi in larga parte va sulle strutture, ma ci sono anche delle risorse per la gestione dei progetti. Questo, nell'intenzione del legislatore e dell'Europa, è quello di avere, come dire, una sanità e un sociale diffuso e in maniera uguale in tutta la nazione. Ci sono delle regioni che sono più avanti, delle regioni che sono più indietro, ma lo sforzo del PNRR è questo, è sulla cultura, è sui lavori pubblici e anche naturalmente sulla sanità e sul sociale, ripeto, tutti gli ambiti della vita di una comunità, di una comunità nazionale. E per quanto riguarda il territorio di competenza del COESO, sul fronte del sociale, dell'inclusione, che cosa si sta muovendo? Noi siamo beneficiari di importanti investimenti. Intanto proviamo a inquadrare la questione che riguarda il sociale e il sanitario. Sono due missioni del PNRR che riguardano una, la missione 5, il sociale, e la missione 6, il sanitario. Quindi le società della salute qui in Toscana gestiscono direttamente o da sole o insieme, diverse società della salute insieme, dei progetti che riguardano il sociale. Le aziende ASL gestiscono invece la missione 6, che è quella appunto della sanità, in particolare della sanità territoriale, quindi le case di comunità, gli ospedali di comunità, questi tipi di investimento. Teniamo presente che insieme alle risorse del PNRR ci sono anche risorse complementari, questo vale un po' per tutti gli ambiti, che sono risorse nazionali. Per quello che riguarda il PNRR, che è il tema di stasera, noi sul sociale siamo beneficiari di 5 progetti, per un totale di circa 2 milioni e 600 mila euro. Questo vale per i 20 comuni del coeso, quindi i comuni... Scusa, la zona sud della provincia di Grosseto. Esatto, quindi la ex area amiatina, la ex area delle colline metallifere, la ex area grossetana, adesso sono tutte e tre insieme all'interno del coeso. Presidente Giuntini, si tratta di vari interventi che riguardano diverse fasce d'utenza. Mi piacerebbe poi se lei dopo accennasse un pochino nello specifico quali sono. Ce n'è anche uno però interessante che riguarda gli operatori sociali e sanitari e che si ricollega a un altro tema che abbiamo trattato in questo ciclo di trasmissioni, che è quello anche della violenza contro gli operatori sociosanitari, ovvero è un progetto che cerca di prevenire il famoso burnout e che mette insieme la nostra zona con altre toscane, proprio perché i bisogni degli operatori probabilmente sono gli stessi più o meno in tutto il territorio. Sì, in questo progetto noi non siamo capofila, capofila è una delle SDS della zona senese, quindi l'Alta Val d'Elsa senese. Rappresenta questo progetto un po' meno del 10% di tutto il plafond delle risorse che abbiamo avuto, circa 210 mila euro, ed è un progetto che riguarda principalmente la formazione e l'attenzione agli operatori. Indubbiamente i nostri operatori lavorano in settori delicati, perché sono quelli della disabilità, del disazio sociale, insomma, poi lo vedremo magari scorrendo gli altri progetti, alcuni di questi ad esempio sono un progetto sul lato intemporaneo, vuol dire avere a che fare con i senza tetto, vuol dire con, insomma, chi frequenta le stazioni. Recentemente abbiamo inaugurato l'help center alla stazione di Grosseto, no? Insomma, sono territori non facili per chi ci lavora. Ecco, quindi credo che sia il fatto di avere un finanziamento su questo tema sia particolarmente importante. Apriamo anche una finestra sulla missione 6, quella che riguarda più strettamente la salute. Tania Barbi, si parla di sanità territoriale in particolare, che cosa ci possiamo aspettare per questo futuro con i fondi anche del PNRR? Beh, diciamo che questa tipologia di investimento va proprio a potenziare quella che è l'offerta sanitaria sul territorio e l'offerta sanitaria è strettamente connessa all'offerta sociale. Ecco perché quando si parla di direttore della società della salute si parla anche di direttore del distretto. Il sociale e il sanitario non possono più essere separati perché i problemi a cui dobbiamo dare risposte sono problemi complessi e il più delle volte sono problematiche integrate, sociali e sanitarie. Con i fondi del PNRR e con tutta una serie di investimenti andiamo a portare il servizio più vicino al cittadino e creando apposite case della comunità si va proprio ad avvicinarsi al territorio. Nel distretto che noi gestiamo ci saranno delle case di comunità hub, quindi con determinate caratteristiche che saranno una su Castel del Piano, una su Follonica, due su Grosseto. La necessità di avere due case hub su Grosseto è legata proprio al nostro territorio. Proviamo a spiegare anche cos'è una casa di comunità perché per gli addetti a lavori è semplice ma per chi ci ascolta da casa qualcuno magari la conosce perché l'ha utilizzata, però insomma non sono così frequenti ancora. Non sono frequenti e quindi sarà veramente una sfida andarle a creare e soprattutto a renderle operative. perché nella casa di comunità noi avremmo tutte le figure professionali necessarie per rispondere al bisogno. Quindi ci sarà la presenza dei medici di medicina generale, ci sarà la presenza degli infermieri, la presenza degli assistenti sociali, dei medici di comunità, in modo tale che il cittadino possa essere preso in carico. Nelle case di comunità hub, che sono quelle più grandi, dobbiamo avere una presenza sanitaria nelle 24 ore. Quindi è uno sportello aperto per rispondere a quelli che sono i bisogni del cittadino. La medicina territoriale, l'assistenza territoriale è un po' l'elemento che davvero manca in questo momento, ma ormai da tempo insomma, ancora è troppo ospedale centrica la sanità e ovviamente è proprio sul territorio che invece si può realizzare quell'incontro tra il sociale e il sanitario, perché come giustamente ricordava lei prima, non possono camminare separati, anche perché problematiche sociali rischiano di diventare sanitarie o spesso lo sono già, perché persone ammalate a lungo pesano sulle famiglie, comunque c'è un tema, non si può ragionare per compartimenti stagni e quindi la risposta che viene dal PNRR va proprio anche in questa direzione. Esatto, l'obiettivo che cerchiamo di raggiungere è proprio questo, di andare a creare una risposta territoriale, intanto già parlare di territorio attivo 24 ore su 24 è un grosso passo in avanti e poi c'è la possibilità di andare a integrare i professionisti. In questi giorni si parla moltissimo della carenza dei medici di medicina generale, della necessità quindi di andare a valorizzare queste risorse e nello stesso tempo trovare anche dei meccanismi che ci permettano di garantire determinati servizi. Quindi la sfida che andiamo ad affrontare con la creazione di queste case della comunità, in passato si parlava di case della salute, L'uso dei termini non è indifferente. Se oggi si parla di case di comunità, la comunità esprime proprio il concetto della territorialità, dell'entrare del cittadino all'interno di un luogo dove possa essere preso in carico in modo globale e quindi di andare anche a decongestionare quelle che sono le strutture tipicamente sanitarie come gli ospedali. Dottoressa Barbi, tra l'altro con i fondi che arriveranno dal PNRR, accanto alle case di comunità saranno anche finanziate le centrali operative territoriali che servono per armonizzare le cure non esattamente ospedaliere e portano avanti, se non sbaglio, una tradizione che è già stata avviata, quella delle ACOT. Che cosa sono? A cosa servono? Allora, diciamo che sono l'anello di congiunzione tra quello che è l'ospedale e quello che è il territorio. Soggetti che hanno avuto un ricovero ospedaliero, che necessitano poi di rientrare al proprio domicilio o comunque in strutture territoriali, vengono segnalati, vengono presi in carico nel senso che viene trovata la dimissione idonea per quel soggetto in quel determinato stato, sia di salute ma anche in quella che è la sua condizione sociale. Non ci dobbiamo infatti scordare che con i prossimi finanziamenti del PNRR andremo anche ad aumentare i letti dell'ospedale di comunità. E qui ospedale di comunità che è quella tipologia di ospedale dove il soggetto non viene preso in carico prevalentemente per il sanitario, ma perché non può andare a domicilio, un paziente cronico e quindi necessita di una specie di ricovero sociale. E l'anello di congiunzione che permette di individuare il giusto percorso saranno appunto le centrali operative territoriali. Poi passiamo a vedere anche un po' i progetti che riguardano il sociale, ma diciamo anche un po' una risposta, soprattutto per territori come quello della provincia di Grosseto, vasto, poco popolato, in alcune zone a rischio, come dire, abbandono. Questo tipo di risposta dovrebbe anche rendere, diciamo, più appetibile la vita nelle zone più periferiche. Ha toccato a un punto importante, perché io fino ad ora ho solo parlato delle case di comunità AB, quindi dove viene garantito determinati servizi, un'apertura H24. Chiaramente quattro case di comunità in un distretto così grande non avrebbero potuto rispondere alle esigenze del cittadino. Ecco allora che saranno individuate anche delle case di comunità SPOC, che in qualche modo vanno ad integrare quelle hub, ma a rispondere a determinati bisogni nelle zone più periferiche, nelle zone più disagiate. C'è una presenza più capillare. Esatto, una presenza più capillare che risponde a specifici bisogni di quel territorio, per cui non sono ancora state ben individuate, ma dovranno essere presenti in ciascuna delle nostre ex zone, diciamo, di questo mega distretto che ci troviamo a gestire, per cui dovranno rispondere alle esigenze dei cittadini delle colline metallifere, ma anche a quelle della zona dell'Amiata Grossetana. Questa è una partita che ancora oggi è in corso di esame, di studio, perché se riusciamo ad individuare bene queste sedi, saremo sicuri di garantire l'accesso ai cittadini. E quindi è una partita molto importante, che andrà condivisa anche con tutti gli organi presenti sul territorio, compresi gli organi politici. Presidente Giuntini, tornando agli interventi della Missione 5, ci sono dei progetti molto importanti che riguardano alcune categorie di utenza, parlo delle persone più facili, per esempio quelle sugli anziani non autosufficienti. Che cosa andremo a realizzare? Tra l'altro è interessato anche il suo comune, in maniera specifica. Sì, diciamo, c'è un progetto in particolare, ma sono due progetti che riguardano queste fasce. Uno è quello, il recupero dell'autonomia degli anziani non autosufficienti. Noi abbiamo sul nostro, questo è un progetto che non facciamo da soli, che facciamo insieme ad altre due SDS, alla SDS Senese, che è il Capofila, e all'Alta Val d'Elsa. Sono due società di salute con cui stiamo lavorando in maniera piuttosto stretta. Per quello che ci riguarda noi abbiamo degli investimenti, perché questo progetto riguarda una parte di investimenti, quindi sulle strutture e una parte di costi di gestione per un triennio. Noi abbiamo due investimenti, un investimento più grosso su Roccalbenia, dove si va a recuperare un immobile pubblico, che dovrà essere destinato alle persone che escono dalla non autosufficienza per ritornare in un tessuto più di autosufficienza. Lo stesso è su Massa Marittima, un progetto un po' più piccolo, dove si prevede la risistemazione di un appartamento destinato ad accogliere chi può uscire dall'RSA. È chiaro, nell'RSA spesso si entra e non si riesce più ad uscire, ma ci sono delle categorie di persone, ad esempio, chi va in RSA dopo degli interventi, che sono dei cronici che hanno avuto un momento di maggiore difficoltà, ma che poi piano piano possono ritornare ad una vita autosufficiente. Questo è il primo progetto. L'altro progetto è il potenziamento, quindi non ci sono costi di investimento, ma tutto di gestione, il potenziamento di quella che è l'assistenza domiciliare per garantire la dimissione anticipata, oppure per prevenire l'ospedalizzazione. Quindi sono anche risorse, quindi sono questi due progetti che maggiormente riguardano queste fasce più deboli, in particolare, alla popolazione. Quindi, di nuovo, Presidente, tutti interventi che sono volti a mantenere l'autonomia e anche la permanenza al proprio domicilio delle persone. Sì, per quanto possibile, sì. Un po' tutti i progetti vanno in questa direzione, perché, ad esempio, un altro progetto è quello che riguarda, forse viene meglio conosciuto come Dopo di noi, l'autonomia delle persone disabili. Su questo, il progetto che abbiamo avuto finanziato si innesta su un progetto che già c'era, che è quello appunto del Dopo di noi, della Regione Toscana, e coinvolge le due realtà più importanti della provincia di Grosseto, il comune di Grosseto e il comune di Follonica, dove verranno, diciamo, approntati degli appartamenti per poter garantire una vita autonoma delle persone disabili, in particolare delle persone disabili che si trovano a non avere più l'ausilio dei genitori, insomma, ecco, dopo di noi è un po' questo. Quindi c'è un investimento anche in questo senso. Mi pare tra gli investimenti c'è anche uno sguardo attento alle situazioni più borderline della società, parlo per esempio dei senza fissa dimora. Questo è l'ultimo progetto finanziato, l'abbiamo detti, francamente, in questo modo, praticamente tutti. Un po' tutti, sì, un po' tutti. Fatemi dire, l'avevo già detto prima, sono 2 milioni e 600 mila euro che cadono, sia in parte sugli investimenti, e in parte su un triennio di gestione, sul nostro territorio. Alcuni di questi riguardano delle realtà circoscritte, altri invece riguardano tutto il territorio del distritto. Questo, in particolare, quello per le persone senza fissa dimora, quindi questo housing temporaneo, riguarda il comune di Grosseto, che è la realtà più grossa, dove c'è una maggiore concentrazione di queste realtà. e di queste problematiche. Allora, i progetti che sono stati presentati sul PNRR, 2 milioni e 600 mila euro, l'aspetto di investimenti e di gestione, come è diviso? Ogni progetto ha una storia a sé, per esempio, sull'housing temporaneo, sono 700 mila euro, sono 500 mila euro di investimenti, e 200 mila euro di spese di gestione. Sull'assistenza domiciliare è tutta spesa, 300 mila euro, mi sembra, sono tutte spese di gestione. Sui 640 mila euro del progetto delle RSA, quindi di questi appartamenti, per il recupero della autosufficienza, di chi vive in RSA, sono due terzi e un terzo. Ecco, ogni progetto c'è un po' una storia a sé. Mi piaceva farlo sottolineare, perché in qualche maniera si investe con il PNRR anche sulle infrastrutture immateriali, che poi sono le risorse umane che servono per gestire tanti servizi, che sono altrettanto fondamentali rispetto alle strutture. Allora, questo è un tema aperto, oggettivamente è un tema aperto, perché la domanda che noi amministratori un po' tutti ci poniamo è non è che rischiamo di fare tutta una serie di strutture, una serie di investimenti e poi non ci sono le risorse per poterle gestire. Allora, tant'è che il PNRR, ad esempio dove finanzia le spese di gestione, le finanzia per un triennio. Poi queste risorse vanno trovate nella Fiscalità Generale, nel Fondo Sociale Nazionale, nei fondi sociali regionali, insomma, però ce lo porremo alla fine di questo triennio di finanziamenti. Però è un tema reale, questo è un tema che gli amministratori se lo pongano, che si parli di cultura, o che si parli di sanità, o che si parli di sociale, o di infrastrutture in generale, questo è un tema... Ogni attività ha un costo, è un costo che deve essere coperto. Guarda, lo voglio dire in maniera molto chiara. Si parla delle case di comunità che sono cose importanti. Poi ci dobbiamo mettere dentro i medici, gli infermieri, gli assistenti sociali, queste sono... E naturalmente questo vuol dire ed è un tema nazionale di investimento in sanità. Ecco, quindi pensare che si costruiscono le cattedrali e poi non ci si mettano dentro le persone, non ci si mettano dentro i pedigli, e sarebbe uno spreco. Sarebbe uno spreco. Quindi è un tema che dovremo naturalmente affrontare. Però intanto gestiamo e gestiamo bene queste risorse che sono importanti, che danno respiro all'economia, ma anche che disegnano una prospettiva. Ecco. O come direbbe un caro amico, disegnano una traiettoria. C'è da dire comunque, Presidente, che questi fondi permettono anche di recuperare tutta una serie di patrimoni edilizio pubblico che magari in questo momento ha bisogno di interventi. quindi nell'immediato si darà forse una risposta in termini di usabilità, comfort per gli utenti e per gli operatori e appunto con questo primo innesto di risorse si potrà almeno per tre anni gestirlo con le giuste professionalità. Ci sarà anche il tempo di trovare il modo di riprogettare. D'altronde, sia nel sociale che nella sanità, ormai da anni, si è abituati a intervenire grazie a dei finanziamenti che si ottengono su progettazioni che spesso coinvolgono anche altri soggetti. Penso per esempio alle coprogettazioni che si fanno con il terzo settore e non solo con gli altri enti. Sì, indubbiamente c'è anche questo. C'è da dire anche che negli ultimi anni, forse da qualche decennio, le risorse anche per gli investimenti forse stanno più nel settore privato che non nel settore pubblico. Questa è una risposta, è una risposta globale, europea in questa direzione. Queste risorse che noi vediamo sono principalmente, no, principalmente, sono risorse pubbliche, quindi vanno a investire sul patrimonio pubblico. Quegli appartamenti, ad esempio quelli delle RSA per il recupero dell'autonomia delle persone delle RSA, si possono fare solo su un patrimonio pubblico, non sul patrimonio privato. Questo diventa importante perché ultimamente finisce perché ci sono i fondi di investimento, perché gli immobiliaristi non hanno più investito nel mattone residenziale, ma d'altre parti sono un business. Si rischia, insomma, bene o male che il pubblico si trovi debole rispetto a uno sforzo del privato. Ecco, il PNRR dà anche questo tipo, un tipo di risposta dà anche a questa problematica. Bene, mi pare che abbiamo sviscerato abbastanza il tema, credo che possiamo anche chiudere qui questa serie di trasmissioni Salute 4.0 che abbiamo dedicato a tanti aspetti di incontro tra salute, tra sanità e sociale, quindi perché poi la salute è un tutto un insieme di fattori. Ringrazio Clelia che ha fatto la fatica di organizzare e di condurre queste puntate insieme a me. Ringrazio Marcello Giuntini, presidente del Coeso che è ospite in questa ultima puntata e Tania Barbie che è stata ospite nella maggior parte delle puntate di questa serie per i contributi che ci hanno offerto. Grazie a voi che ci avete seguito da casa e ci diamo appuntamento magari a qualche altro momento in cui parleremo ancora di salute e di sanità. Grazie. Grazie. Grazie.